Inchiesta su appalti pubblici, obbligo di dimora per il presidente della Calabria Oliverio. A Rai News 24 dice, anch'io combatto la mafia. In Europa non deve prevalere l'unilateralismo, dice Mattarella alle ambasciatori di tutto il mondo. La comunità internazionale deve dialogare. Il testo della manovra inviato a Bruxelles, trovate le coperture per il deficit al 2,04%. Dialogo aperto fra Roma e l'Unione Europea. Auto in contromano sulla statale in provincia di Sondrio e strage. Sei morti sul colpo, un 52enne e cinque giovani. Brexit, il laborista Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la May. La Premier annuncia voto parlamentare a metà gennaio. Milano, la provincia d'Italia dove si vive meglio. Nella classifica del sole 24 ore, Roma 21esima, fanalino di coda, Vibo Valencia. Champions, Juve, Atletico Madrid e Roma Porto agli ottavi. Rapid Giurico e Siviglia, le avversarie di Inter, Napoli e Lazio in Europa League.